Speriamo che sia una stagione ricca di successi, anche se ovviamente le difficoltà sono tante perché i ragazzi hanno oltre gli impegni scolastici anche quelli lavorativi. Noi tentiamo di portare tutti i ragazzi al compimento di un percorso che dovrebbe poi concludersi il 5 maggio presso Rimini che ci sarà nei campionati italiani. Questo è il nostro obiettivo stagionale. Che realtà è l'Accademia Genovese? Quanti ragazzi avete? Che corsi li fate praticare? Noi pratichiamo la savata e la kickboxing presso il centro polisportivo della Sciorba, il lunedì, il mercoledì e il giovedì alle 19.30 e poi il venerdì mattina alle 10.00. È un gruppo abbastanza eterogeneo, partiamo dai 12 anni fino ai 76 anni, quindi abbiamo un po' di tutto. Perché si volesse avvicinare alla vostra realtà? Come si fa a contattarvi e come si fa poi a entrare nel vostro mondo? Quello è facilissimo perché è un gruppo assolutamente aperto, basta venire al centro polisportivo della Sciorba, chiedere della nostra scuola e vi verrete indirizzati direttamente lì.